Gli assistenti vocali virtuali sono oramai strumenti molto utilizzati anche nella vita quotidiana. Vediamone alcuni aspetti legati al tema della privacy. Innanzitutto vi do il benvenuto e il bentornato su questo canale dove trattiamo temi di diritto civile, privato, commerciale, privacy, procedura, news e molto altro. Se questi temi vi interessano io vi invito ad iscrivervi, a cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati. I Virtual Voice Assistance, VVA, quindi gli assistenti vocali virtuali, sono per l'appunto dei sistemi di software che interpretano il linguaggio naturale corrente delle persone. Come è noto i VVA sono ormai implementati ad esempio su moltissimi smartphone, oppure su sistemi operativi per personal computer, su sistemi implementati negli altoparlanti cosiddetti intelligenti, eccetera. Il VVA per sua stessa natura è un sistema che quindi rimane costantemente in ascolto eppur in stand-by fino a quando appunto non rileva l'espressione che, tra virgolette, va a svegliare il dispositivo. Quindi quando l'utente utilizza questa espressione che può essere preimpostata oppure anche modificata appunto con un segnale specifico da parte dell'utente, appunto quando il VVA rileva questa espressione e sostanzialmente si va ad attivare. Per attivarsi appunto il VVA deve confrontare in locale l'audio captato con quello dell'espressione appunto di risveglio impostata dall'utente e se queste quindi corrispondono l'assistente apre effettivamente il canale di ascolto e il contenuto audio viene trasmesso. Quindi una volta che il VVA è attivato, le richieste formulate dall'utente vengono trasmesse al relativo provider. Come è intuibile questi strumenti presentano particolari sfaccettature per quanto riguarda il tema della protezione dei dati personali. I casi possono essere davvero molteplici, potremmo qui per brevità ad esempio ipotizzare il caso in cui non sia l'utente ad attivare il VVA ma sia ad esempio un terzo a sua insaputa perché magari come abbiamo visto la frase di risveglio è stata reimpostata con una frase magari di uso comune, corrente nel linguaggio e quindi un terzo potrebbe attivare a sua insaputa il sistema. Oppure potrebbe ad esempio essere lo stesso VVA a sbagliare nell'interpretare una frase e quindi ad attivarsi sostanzialmente ipoteticamente per errore. Lo European Data Protection Board è intervenuto su questo tema con le Guidelines on Virtual Voice Assistance in questo caso la versione 1.0 adottate il 9 marzo 2021. Trovate il link alla versione originale qui sotto in descrizione così come trovate anche il link dei consigli del garante della privacy italiano per un uso a prova di privacy degli assistenti digitali o smart assistant. Lo European Data Protection Board ha sostanzialmente verificato che comunque la disciplina applicabile sarebbe sia quella di cui al regolamento GDPR sia quella di cui alla direttiva e-privacy. Per conseguenza tra il resto quindi la base giuridica più adeguata a coprire questo tipo di trattamento dovrebbe generalmente essere quella del consenso relativamente al quale il titolare del trattamento dovrà appunto informare l'interessato su tutte le finalità del trattamento. Infatti come vedete da un piccolissimo estratto il consenso potrebbe essere una appunto delle basi giuridiche di cui all'articolo 6 con due tra il resto specificazioni interessanti quindi quando il consenso è la base giuridica gli utilizzatori devono essere propriamente informati per che il consenso possa essere ritenuto valido questo anche con riferimento ad esempio alle funzioni di autoapprendimento del VVA che quindi non sono esplicitamente collegate ad esempio all'evasione della richiesta ma sono più legate invece a un miglioramento del funzionamento del software e poi è interessante anche tra il resto notare come nel documento si richiamino proprio gli utenti cosiddetti accidentali quindi quelli che in realtà non volevano attivare il sistema specificando che appunto gli sviluppatori del VVA devono considerare come informare propriamente appunto questa tipologia di persone è sicuramente un tema molto complesso e che sarà sempre più in divenire in futuro io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alla prossima